Con Simone Simeri, intanto benvenuto, ben ritornato, sarebbe meglio dire qui a Novara. L'impressione di questo primo giorno di ritiro? L'impressione è buona anche perché ho ritrovato vecchi amici del ritiro passato, quindi sono contento di riabbracciare tanti amici che ho lasciato l'anno scorso. Se tu arrivi da una buona stagione, direi anche ottima, sotto il profilo anche realizzativo, quanta esperienza porti dall'ultimo campionato qui a Novara? A malincuore il Novara purtroppo è retrocesso, quindi venendo da un campionato di Liga Pro posso portare una piccola esperienza anche qui al campionato di Liga Pro al nord, anche se non l'ho mai fatto, però io credo che quest'anno c'è da lottare, c'è da battagliare perché comunque l'obiettivo principale è quello di fare un campionato importante, quindi speriamo bene. Ci sono già le condizioni secondo te con questa rosa? Ma sicuramente la rosa se la farà il direttore, col presidente, col mister, quindi ad oggi siamo una buona squadra ma credo che arriverà qualcun altro. Per Scarmanzia andiamo in doppia cifra anche quest'anno? Ma quello è d'obbligo, il mio ruolo mi obbliga a dire solo questo, poi che saranno 10, 11 o 25 non te lo so dire, però l'obiettivo dell'attaccante è quello sempre della doppia cifra.